Sindaco, gli imprenditori quartesi che hanno partecipato alla ricostruzione dopo l'alluvione del 2005 chiedono con forza di avere quanto loro aspettanti, cioè i soldi per i lavori eseguiti e lo accusano di non voler dare loro i soldi. Io ho visto un manifesto brutto, io davanti a queste telecamere più di una volta ho detto che chi ha lavorato deve essere pagato, abbiamo fatto più di una riunione, stiamo lavorando proprio per venirne a capo, non lo so perché l'hanno fatto, non capisco il motivo perché abbiano fatto questo è un lavoro che hanno fatto, è qualcosa che viene dal passato, nel 2005, siamo nel 2012 io sono sindaco da 7-8 mesi, vogliono inviare le carte alla propria della Repubblica, lo facessero pure insomma non è che mi fa paura questa cosa, mi dispiace che abbiano fatto questo manifesto secondo me in un momento anche inopportuno perché oggi le nostre forze le dobbiamo tutte quante profondere per scongiurare il problema della discarica nel Castagnaro certamente in un periodo di crisi come questo capisco le necessità dei singoli però qualcosa che non si risolve da 6-7 anni ci diano il tempo di capire, di entrare nel merito e di trovare una soluzione